eccoci qui tutto pronto dallo sbordone league la seconda giornata della major tra la partita tra so travel e il real city iniziamo alla lettura delle formazioni per per il real city con in porta il nostro puka difesa con panunzio luci e perrone centrocampo con sarnella maccarelli attenzione tesorio e simonte mentre invece andiamo alla lettura del dei so travel in porta non c'è difesa con corona picardi bassolino rullo capasso viser a disposizione del core e russo messa blocca marchese vai in avanti seguire viser messa diamo rimessa del real city si incarica lucci a da sarnella coralli ucci ancora rimessa per il real city a carelli si va da perrone una perrone gira da panunzio la panunzio il cross in mezzo corona dei passolino farà rullo colpisce l'albitro quando si attraverla con capasso corona corpo di testa colonna c'è la marchese appoggia da viser rigica passo in mezzo a due in difficoltà ad amarchese ancora picardi ancora capasso in avanti lucci controlla mischia corona se ne esce si prende anche un fallo passo in avanti a cercare viser se no ancora picardi non ce la fa tesorio bravo gg capasso cercare qualcuno lo trova come te fallo tesorio giocano il real city con di testa tesorio ce ne va in mezzo il tiro palo palo di marcarelli panunzio la rimessa con le mani lunga in mezzo lucci ancora in mezzo simonte deviato ancora il sinistro fuori marchese vai in avanti lungo lucci la controlla parla lucci in avanti mischia picardi se ne esce fallo quindi fallo per risolta invece passi in carica rullo nullo in porta legata picardi commette fallo mezzo attenzione marchese la blocca bassolino intacco cercare gg capasso lungo viser po già da rullo con a rullo l'incendente in pallo poi recupera viser pallone arriva di nuovo a marchese gi 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 capasso gira capasso vada corona controlla viso travel questo controllo una partita ma in avanti a cercare viser marcarelli controlla attenzione picardi vince l'impallo poi recupera perrone rimessa veri so travel in mezzo scarerullo ancora picardi picardi gira vada corona il tira di corona attenzione in mezzo c'era viser doveva cercare il rullo ma la difesa la butta in calcio d'angolo vito ancora picardi il destro attenzione deviata da corona bravo buca a marcarelli lungo attenzione incredibile gol di marcarelli improvviso tiro cross sorprende marchese 1 a 0 0 risultato questo da sfavore veri so travel corona vada picardi ancora inzio picardi marcarelli la butta fuori quindi escono bassolino e picardi ed entrano del core e russo rimessa cercare viser mischia viser se ne esce così ancora recupera rullo rimessa per ancora per il real city luci sbagli attenzione c'è gigica passo rullo rullo riporta subito ai suoi sull'1 a 1 quindi 1 a 1 il risultato si monte vada perrone per una ancora da si monte controlla funziona russo si gioca capasso gira la corona vada picardi ancora inza picardi il cross lungo cercare viser lo trova ancora panunzio cerca di buttarla fuori rimessa per il real city si gira da perrone perrone gira ancora da tesorio da simonte scusatemi rimessa per viso travel del core a cercare capasso ancora del core del core la fascia si monte recupera e vada attenzione ottimo corona viser appoggia russo russo se ne va sulla fascia in mezzo a rullo attenzione mischia è messa dal fondo c'è d'angolo va russo russo in mezzo colpa di testa di viser la ribalta subito 2 a 1 si riparte il vantaggio è stato annullato per per il real city a marcarelli perone ancora perone in mezzo lunga c'è corona piccardi non la trova ancora tesorio in mezzo marchese calcio d'angolo calcio d'angolo per il real city in mezzo forte marchese ma fa sua chiede calma marchese e vada piccardi viser 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 cercare rullo rullo passa ancora rullo vince dai rimpalli mischia rimessa ci sarà ancora calcio d'angolo va russo russo e mezzo questa volta cerca corona pallone rimane lì corona 3 a 1 risultato sul 3 a 1 si monta in porta vada poi recupera si va direttamente dall'altra parte con viser ancora viser combatte poi poi fa fallo batte subito perone marcarelli vada luci si scambiano i due ancora marcarelli cercare panunzio corona la butta fuori gioca subito con perone lancia in avanti palla marchese del core corona gira vada marchese marchese si affida rullo del core russo ancora del core viser di tacco per capasso ancora del core del core può tentare ci pensa poi vada viser di tacco marcarella fallo di del core perone va subito subito da simonte ancora simonte del core se ne esce così lusso appoggia capasso da picardi coranzo picardi cerca e non trova nessuno dei suoi c'è panunzia che la controlla palla per il real city si batte questo calcio di punizione ferrone vada marcarelli ci prova va in mezzo corona sputa fuori vada viser viser per corona velocissimo poi controlla marcarelli ci appoggia a puka ancora marcarelli gli uc si scambiano ancora i due perone gira ancora dopo una fase scoppiettante del real city perdono il vantaggio e adesso studiano un po' il da farsi gli uc ancora perone lungo in mezzo con la corona c'è panunzio ancora ma ancora marcarelli in mezzo russo se ne esce vada viser così viser ma in mezzo tiro deviato panunzio tuta lunga sarnella colpo di testa cercare tesorio ma non lo trova ancora biser rullo non c'è niente marcarella ancora tesorio sbaglia il controllo quindi c'è ancora biser vada marchese del cuore gigi capasso con una finta ma da rullo però bravo ferrone poi c'è panunzio che appoggia da lucci ma da sarnella che se la porta fuori scono enzo picardi e gigi capasso picardi bassolino ben entrati sbaglia bassolino per recupera lullo 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 colpo di testa di marcarella cercare si munte ancora marcarella sbaglia il controllo per sarnella palla per il veriso travel con bassolino vada corona di petto per marchese del cuore ancora del cuore in avanti per rullo azione recupera così per rullo luci sarnella ancora luci azione mischia poi si tenta ci sarà calcio d'angolo a marcarella in mezzo colpa di testa ancora rimessa per il real city luci ancora marcarella luci ancora in mezzo colpa di testa di del cuore c'è panunzio che tenta il tiro fuori picardi in avanti per rullo recupera marcarella ancora si monte recupera russo vado subito da viser ancora viser col destro puca ancora per rullo a lungo vada luci ancora marcarella ancora per rullo in avanti palla fuori picardi viser perde il cuore in mezzo cercare qualcuno non trova si vada si monte ancora si monte si appoggia a perrone ancora perrone controlla controlla da panunzio attenzione picardi se ne va picardi picardi sbaglia marcarella gira da panunzio ancora perrone marcarella attenzione ancora recupera rullo poi ci sarà fallo per il real city marcarella ancora ci sarà lui a battere questo calcio di punizione marcarella prova il tiro corona vai in avanti a cercare viser ancora di testa però c'è puca mischia c'è picardi palla poco fuori battono subito perrone perrone si appoggia da panunzio in avanti non aggancia sarnella rimessa ci siamo assicurati delle condizioni di di sarnella viser viser perrone si appoggia a puca corre in avanti cerca il tesorio però recupera picardi allunga russo non aggancia un primo istante poi recupera rullo in mezzo petrov non aggancia però è sempre sottravel con picardi bassolino ancora bassolino se ne va giada picardi di tacco finisce così il primo tempo vantaggio dei so travel di nuovo il secondo tempo va si monte risultato sul 3 a 1 tesorio la lascia a luci marcarella ancora luci in mezzo marchese la fa sua massolino si gira marchese massolino passolino ancora per corona vai lungo cercare viser che aggancia viser in mezzo e pallone di mare là ancora viser per picardi in mezzo ancora picardi scivola lucina avanti c'è corona attenta il tiro c'è puca perone guarda luci tesorio c'è rullo giacca passo per ora la butta in angolo passo e mezzo per corona che la butta fuori grande occasione per il suo travel si batte subito perone da marcarella ancora perone controlla perone ancora per marcarella gira perone calcio attenzione pallone impallato da gigi capasso ma c'è ancora rimessa per i sotto come per il real city con panunzio se batte subito hanno fretta come giusto che sia il real city vantaggio di due gol per loro si monte calcia pala fuori andrà a lungo marchese cercare biserti cercare di petto colpa di testa picardi tenta il tiro c'è puca che va subito da perone controlla ancora perone a marcarella ancora marcarella ok sbaglia il passaggio però c'è ancora perone ancora marcarella guarda attorno va a lungo da panunzio gigi capasso si prende questo fallo laterale panunzio picardi ma bassolino era scusate attenzione tacco favorire bisert c'è carullo ma non si capiscono due bravo puca e si appoggia si appoggia ancora a perone per una ancora lunga in avanti si monte m ama ma da marcarella si monte sbaglio il passaggio c'è sicuro c'è un ottimo bisa assolino picardi però la palla è per il Real City con Panunzio batterà si appoggia ancora a Perrone da Marcarello ancora fase di studio per il Real City non riescono ad avanzare ottima difesa quella dei sottrave Perrone Giuci va in mezzo Corona Panunzio in mezzo si monte si gira lo chiudono in tre e parte il contropiede con Picardi Picardi si appoggia per Beezer un ottimo Puka che chiama i suoi però incredibile il contropiede dei sottrave che battono subito Capasso tenta il tiro ancora Perrone ad Agliucci la fascia Marcarella ancora Marcarella Marcarella Perrone Sbaglia Perrone Picardi Picardi il sinistro Puka in due tempi Tesorio Sbaglia ancora Attenzione Bise si gira il sinistro fuori Perrone Ancora in avanti però c'è Corona chi avanza si avanza può tentare si appoggia invece da Rullo controlla in mezzo Corona deviata c'è Marcarella sulla fascia attenzione Corona velocissimo recupera guarda Gigi Capasso Bise sbaglia Perrone avanza vada Marcarella si appoggia sulla fascia da Agliucci però c'è un ottimo Picardi ci sono i cambi escono Bassolino e Picardi appoggia Bise da Rullo ancora per Russo del core non aggancia fa commette anche fallo con la prima fase di studio di sottravele escono fuori si monte attenzione perde per un attimo c'è Marcarella si appoggia da Lucci si monte ancora da Lucci in mezzo di tacco Corona partono ancora con Rullo per Russo ancora Rullo il tiro deviato calcio d'angolo batterà ancora Russo in mezzo per Biser non c'è andato Marcarella si prende questo pallo laterale Perrone si appoggia Perrone controlla poi si appoggia a Marcarella si gira da Simonte Simonte corre sulla fascia però c'è ancora attenzione Simonte vince il rimpallo su Picardi si andrà quindi con questo calcio d'angolo con Tesorio in mezzo Persi Monte di testa c'è Corona controlla c'è Perrone Panunzio però c'è del cuore che controlla per Capasso rimessa per i sottrave in mezzo ancora Biser del cuore sbaglia Panunzio vanno avanti c'è Corona che controlla ancora Corona se ne va così Corona vada Biser in mezzo c'è Corona il tiro ancora Corona 4 a 1 parte quindi su 4 a 1 i sottrave quando partono davanti fanno male c'è Simonte il tiro russo ed acclamato dai tifosi in mezzo Simonte Corona Panunzio tenta Picardi il pallo poi c'è fallo di mano Massimonte questa è la barriera per una chiesa Massimonte calcia colpisce la barriera c'è Capasso per la Simonte recupera attenzione Corona però c'è Lucci Lucci Marcarella vada Panunzio però Marcarella si gira c'è fallo Perrone basso Picardi non riesce a recuperare Biser ci sarà la rimessa per il Real City Lucci vada Perrone ancora Perrone ancora in avanti c'è un altro salta fallo Biser la prende con le mani subito Marcarella calcia palla fuori vada il core appoggia per Picardi ancora Picardi bellissima palla in mezzo c'è Russo che non controlla Puca la fa sua Panunzio si appoggia ancora da Perrone gira da Marcarella c'è un ottimo Picardi però cerca Biser lo trova Biser si gira poi non controlla e si arrabbe Marcarella va a lungo a cercare Simonte lo trova in mezzo c'è Corona che esulta Simonte va a lungo in mezzo Marcarella controlla si gira in mezzo ancora Lucci non controlla però c'è una terra attenzione tutto a posto quindi per Corona si riparte da Marchese che chiede calma ai suoi si riparte da Delcore ora per Marchese controlla c'è questione di tesorio attenzione sono in due Gigi Capasso troppo forte non la vede russo Perrone va a lungo c'è Marchese che va da Capasso di tacco attenzione Biser da solo calcia 5 a 1 con l'improvviso per i so travel un ottimo Gigi Capasso che di tacco chi entra ci sono dei cambi ha detto Bassolino quindi inutile che lo ripeto anche Picardi Enzo Picardi quindi risultato sul 5 a 1 Panunzio vada Perrone Marcarella fuori Bassolino vada Corona attenzione Sarnella ne è in agguato però è bravo Corona ad appoggiare Verde al Core che va subito in avanti attenzione Tesorio controllo così e così Bassolino la butta fuori Panunzio per Marcarella attenzione Cerullo Marcarella però va in mezzo Bassolino alta Picardi però attenzione si monte Sarnella Marchese la fa sua e vada Bassolino Picardi si appoggia ancora portiere ancora Marchese attenzione la butta lunga Sarnella se ne va così ancora Sarnella in mezzo deviazione palla per Marchese che va da Gigi Capasso controlla Capasso si appoggia del core che va da Russo attenzione lunga Russo la controlla poi se ne va così però c'è un ottimo Perrone che va da Luci attenzione Russo recupera Rullo gioco di gambe di Rullo attenzione ancora si appoggia Picardi ancora Rullo Puca sono ancora libero con Perrone che la butta in avanti a cercare Sarnella c'è un ottimo del core rimessa per Puca Perrone vada Marcarella attenzione Picardi recupera se ne vanno col Capasso in mezzo Capasso c'è il gol Gigi Capasso un ottimo so travel e c'è la si monta che vuole calciare stavo dicendo un ottimo so travel coglie impreparati c'è volta impreparati il Real City che ha iniziato molto bene poi sono usciti fuori quelli dei so travel però andiamo in live Ferrone calciafuori attenzione ancora Picardi c'è ancora calciafuori si batte subito alla disperata il Real City Marcarella vada si monte si gira però Picardi ancora Picardi rimane in campo Picardi Picardi 7 a 1 e mette un punto definitivo sulla partita si monte calcia in porta Marchese crollo da parte del Real City però dall'altra parte c'è un ottimo so travel che ha fame di gol e si vede calcio d'angolo qua tesorio si batte tesorio per si monte di destro la butta fuori corona va a lungo Ferrone la chiude ancora Rullo Rullo se ne va un po' già Picardi di prestigio per Russo che controlla Rullo tesorio se ne va così vada Marcarella attenzione il pallone ce l'ha ancora lui ci sono ancora tre addosso Picardi di prestigio poi fallo si batte subito Bassolino Coruna Rullo si va da Marcarella che prova la palla fuori gioca subito Capasso cerca qualcosa però Ferrone è bravo ma sbaglia il passaggio e c'è Picardi ancora Picardi va da Russo ancora Picardi calcia Picardi 8 a 1 Simonte calcia Russo Panunzio Panunzio Marcarella Marcarella vada Perrone che cambia ruolo più avanti attenzione Tesorio si appoggia Simonte Simonte si gira poi vuole calciare ancora Corona non si ferma mai del core calcia fuori Perrone ancora Perrone Calcia fuori Marchese va subito davanti a cercare Capasso che controlla attenzione c'è pressing di Russo però bravo lì ci appoggia Sarnella Marcarella ancora Simonte controlla Simonte si gira di tacco c'è Russo però su di lui Bastolino pallone ancora per Marcarella Sarnella se ne vanno ancora Panunzio appoggia Luci tesoro di tacco però del core la butta fuori e finisce così il risultato sull'8 a 1 vincono ancora i So Travel qui al termine della partita tra So Travel e Real City risultato di 8 a 1 qui ci sono due migliori in campo un bel gol tuo poi che è successo durante la partita siamo un po' persi un po' lasciate andare un po' lasciate andare un po' loro fisicamente erano più pronti di noi avevano anche due sostituzioni noi no e a lungo andare ci hanno fatto la differenza e va bene quindi ci vediamo alla prossima per la terza giornata e siamo qui con il migliore in campo Corona non ti sei fermato un attimo che dici allora per questo torneo questa è la seconda vittoria consecutiva prima prima tu non c'eri l'ultima partita che dici che dici là dietro questa volta siete stati davvero un muro non è passato niente questa è la cosa importante grandissimo gruppo e giochiamo soprattutto per divertirci si vede in campo però abbiamo tanta fame vogliamo vincere l'anno scorso siamo arrivati in finale d'Europa League non tutti i nomi da squadra e siamo rimasti un po' male per l'iniezione va bene questa stagione vi rifarete vogliamo vincere come hai detto Pedro la settimana scorsa vogliamo vincere tutto ti confermi quello che ha detto il tuo capitolo la settimana scorsa un saluto per Corona bocca al lupo in bocca al lupo a te arrivederci